Non funziona, pazienza Lato sbagliato, lato sbagliato, lato giusto Giovamburto a Nutri ragazzi, oggi vi presento la Istax Mini 99 Ho fatto la intro più veloce della storia E va benissimo così perché non mi voglio perdere in chiacchiere L'ho lasciata nella scatola non perché voglio fare l'unboxing di tutto Ma perché è bella, mi piace Mi piace il packaging È fighissimo con questa, l'abbiamo tirato già fuori Che è il cavo di ricarica però Vedete, molto bella, molto bella Ma quello che ci interessa non è la carta Tra l'altro Don't Just Take, di Fuji Ma è Eccola qui Fuji Istax Mini 99 Di cui vi parlo a brevissimo Intanto che cosa c'è in confezione Cavo di ricarica USB-C con il caricatore E la batteria che in questo caso è già dentro Quindi non a pile ma a batteria Eccolo qua Facciamoglielo vedere bene alla bianca Però va bene, lo mettiamo da parte C'è il laccetto Per mettersela al collo Ok Se qualcuno se la volesse mettere al collo E poi figata Lo tiro fuori da qua Aspettate Cerco di non spaccare tutto Ok Ovviamente ho spaccato tutto Eccolo qui Questo handle Ok E qui possiamo definitivamente andare a mettere Da parte la scatola E tanto anche lì delle istruzioni Ci interessa il giusto Questo handle qua che ha una vite da un quarto di pollice sopra E sotto E magari per il trasporto Vedete qua c'è la filettatura Andiamo ad avvisare E la possiamo tenere tranquillamente così Oppure andare poi a metterla dallo stativo Comunque ci offre un'opzione di grip in più Che sul campo provandola Non è una cosa poco intelligente È una cosa molto intelligente e molto comoda Ma andiamo a parlare di lei Ok Mettiamo anche questo qua di lato Qual è la particolarità di questa macchina? Secondo me la cosa più particolare È il divertimento Che ne viene fuori Con tutte le simulazioni di colori Che poi andremo a vedere Tutti gli effetti molto fighi Tra cui uno secondo me Spacca veramente di brutto E la possibilità anche di avere un po' di controlli Di cui vi parlo a brevissimo Che vanno a rendere l'esperienza di utilizzo Della Mini 99 Facilissima Come tutte poi le interfaccia Delle Instax di Fuji Però con alcune piccole accortezze in più Diciamo Che ci permettono di gestire le foto Come vogliamo noi E di ricreare degli effetti Molto molto fighi Mantenendo sempre però La classica semplicità dell'Ixtac di Fuji Come si accende? Si accende semplicemente girando la ghiera Ok Viene fuori l'obiettivo Si apre A questo punto vi faccio vedere direttamente Le tre posizioni di messa a fuoco Una volta che si accende È automaticamente settata Sulla distanza di messa a fuoco Da 3 metri a infinito Abbiamo la seconda possibilità Che è da 0,6 metri Quindi circa mezzo metro A 3 metri E poi da 0,3 metri A 0,6 Per andare a fotografare Soggetti molto ravvicinati Alla macchina In più Per rimanere in questa zona qua Prima chicca Subito Vedete questo pulsante qua È il pulsante vignetta Che cosa ci abilita O ci disabilita Lo vedete subito Guardate Qua un dettaglio Se io lo vado ad accendere Vedete che esce Questa specie di anello Nero Che in poche parole Ci simula Un effetto vignetta Quindi magari Quando andiamo a farci Dei ritratti Degli autoritratti Dei selfie Oppure semplicemente Vogliamo aggiungere Un tono particolare Di questa vignetta Sfocata Molto figa È un'opzione Che ci permette Di avere questo effetto qua Direttamente nelle pellicole Che scattiamo Quindi panoramica Di questa parte Fatta Chiusa Il classico modo Di aprire Per inserire le pellicole È quello classico Di Fuji Non ve lo sto a far rivedere Così evito Di bruciare Una delle pellicole Che ci ho già messo dentro Qua c'è però Il vano batteria Vedete Per alloggiarci Quella batteria E quando si scarica Ovviamente si ricarica Mirino E Una serie di bottoni Adesso vi faccio vedere subito Accendendola Ci permettono di controllare In primo luogo Il flash Quindi di andare ad abilitare Disabilitare O gestire anche L'intensità Lasciandola in maniera automatica Decide la camera Quando sparare Oppure no Il self timer Che semplicemente È l'autoscatto Quindi se vogliamo Metterela lontana Schiacciare E poi mettersi in posizione Per fare la foto E poi le mod Le modalità Che sono in questo caso Quattro E sono la modalità Indoor Che In poche parole Va ad allungare Un pochino I tempi di esposizione In maniera tale Da non utilizzare il flash Ma guadagnare Un po' più Di esposizione Quindi Se siamo magari In una stanza un po' buia La modalità indoor Ci permette di alzare Un po' la luminosità Senza utilizzare il flash Viceversa La modalità sport La modalità sport Che invece Ci congela l'attimo Quindi va Ad avere un tempo Dell'otturatore Molto veloce E ci permette Di scongiurare Di avere un po' di mosso Magari quando Qualcuno Il soggetto Che stiamo fotografando Si sta muovendo In maniera molto veloce Ma ci fa congelare Perfettamente l'attimo E poi Ci abbiamo La modalità Classica Di double exposure Che va a mixare Una foto Con esposizione più alta E una più bassa E infine La modalità bulb Che in poche parole Rimane aperto L'otturatore Fin tanto che Siamo a premere Il tasto di scatto Fino ad un massimo Di 10 secondi Quindi qua Diciamo Andiamo a portare All'estremo Il concetto Che vi ho spiegato Nella mode indoor E quindi Teniamo L'otturatore aperto Per far entrare Tanta luce E magari Creare anche Degli effetti Di giochi di luce Fino ad un massimo Di 10 secondi Queste erano Le modalità Ovviamente Se non andiamo A selezionare nessuna Avremo la modalità Classica standard Altra cosa Di cui vi voglio parlare È questa rotella Qua Per la compensazione Dell'esposizione Molto molto utile Perché ci permette Di andare Ad avere 5 parametri Per gestire L'esposizione Uno Punto iniziale Il pallino Che ci permette Di non avere Nessuna compensazione Dell'esposizione In sostanza Oppure L e L più Per andare Ad aggiungere Ad alzare L'esposizione Oppure Di E di meno Se vogliamo invece Tenere un po' più bassa L'esposizione Per scongiurare Magari Delle zone In alte luce Che potrebbero essere Bruciate Queste 5 posizioni Ci permettono Soprattutto via via Che abbiamo Preso confidenza Con ognuna Di queste Di andare Precisamente Tutte le volte A prendere A beccare L'esposizione giusta Per ottenere sempre La foto Praticamente perfetta Mi sono lasciato Per ultimo L'ultima ghiera Che secondo me È quella Più figa Perché ci va Ad inserire Degli effetti All'interno Delle nostre foto Che ci permettono Di dare Un sapore Un po' caratteristico Ad ognuna foto Sulla base Di quello Che vogliamo Andare a fare N Sta per neutral Cioè Posizione standard Non aggiunge Nessun effetto Abbiamo la foto Con i colori Precisi Che stiamo inquadrando FG Sta invece Per faded green Che aggiunge Quella tinta Un po' verdognola Questo verde Molto leggero Però molto carino Che ci va a simulare A ricordare un po' Alcuni tipi Di effetto WT Che sta invece Per warm tone Quindi se vogliamo Aggiungere Una tinta Un po' più calda Vogliamo scaldare Un po' E aggiungere Quella patina Calore Alla nostra foto Questo è L'effetto perfetto LB Sta invece Diciamo Per l'opposto Light blue Quindi va Ad aggiungere Una patina Un po' più Bluastra Che va a raffreddare Un po' Il tono Della foto E crea appunto Questo effetto Blu SM Che è invece Soft magenta Quindi ci va ad aggiungere Un tono magenta All'immagine SP Che è seppia Ci simula Il classico Effetto seppia Andando ad aggiungere Quell'effetto giallognolo Un po' sporco Classico Che mi ricorda Un po' Quando ero piccolo E con i primi telefoni Che facevano foto Che facevano gli effetti Andavo A utilizzare quasi sempre L'effetto seppia Per dare Vibes È vero Te non lo facevi? Te non lo facevi? Te non lo facevi? Non l'hai mai messo No non l'hai mai fatto L'effetto seppia Revival Revival Importanti Vabbè Facciamo perdere Perché andiamo Sull'ultimo Che ho tenuto per ultimo Vabbè Perché è l'ultimo Della ghiera Ma anche perché Secondo me È quello veramente Più figo Che è il doppio L Cioè Light leaks Che cosa fa? Ci va ad introdurre Degli splash di luce Un po' come se fossero Quella pasta E quel sapore Che secondo me È molto figo Vi consiglio di usarlo Perché Ti ricordi te Tipo c'era Un po' di tempo fa Un'applicazione Faceva le foto Che si chiamava Tipo Ugi Che faceva Era figa quella Esatto Effetti pellicola scaduta Io l'ho detto In maniera un po' più fine Però replica quello Replica l'effetto Diciamo Della pellicola scaduta Andando ad aggiungere Questi toni rossastri Questi appunto Light leaks rossastri Però molto figo E adesso faremo Una foto Utilizzando tra l'altro Questa modalità qua Alla bianca Che come sempre Si festerà Perché lei È molto veramente rossa Non lo faccio nemmeno io Mi abbia in mente adesso Mi voglio fare Un selfie Con il light leaks E disabilitando il flash Tanto c'è Ci sono tutte le luci Ok Fammi mettere la distanza giusta Bellissimo Vediamo Vediamo che sto scempio Di Di Selfie mi farò Vediamo Vediamo se è più bella La foto mia Quella della bianca Vediamo chi sarà venuto meglio Io Mi piace Bella la tua È bianca È bianca come la bianca Ancora un po' bianca è Ora mi provo a fare Un selfie Senza Light leaks E tra l'altro Vedete qua In questo caso c'è Parecchia luce Che mi sta sparando Sul viso Perché c'è la luce Del softbox E ho messo Il di meno Per Tenere l'esposizione Un pochino più bassa E evitare di Bruciarmi tutto completamente Magari si poteva mettere Anche soltanto il di Tenere anche un po' Più sull'esposizione Però Provandolo a fare con il di meno Vediamo un po' I nome Come viene Qui ci siamo divertiti Abbiamo fatto un po' Di prove Vi faccio vedere intanto Vedete Il light leaks Che figata Che vi dà Questo Questi splash Rossastri E questi effetti Appunto Come se fosse La pellicola esausta Tra virgolette Un'altra cosa figa Vedete qui Come Questo Vabbè Trasciando Trasciando la mia La mia espressione Da Vabbè Trasciando la mia espressione Però Qua ho messo L'esposizione La compensazione L'esposizione Su di meno Perché avendo la luce bianca Forte Sul mio volto Se non l'avessi messa Sicuramente La mia faccia Sarebbe stata bruciata Invece qua Vedete Come Il dettaglio Sul mio volto È Perfetto Quindi Questi passi Secondo me Sono fondamentali Vanno gestiti Ma comunque Lo capite subito Benissimo Quanta luce c'è Secondo me È sempre meglio Magari stare Un pelino più bassi Ora in questo caso Era di meno Poteva venire anche Su di Però Di base Ve ne accorgete subito Quando c'è tanta luce Sempre andare A mettere Uno step in meno È un'ottima idea Qui c'è una combo Di tutto Perché qui c'è Il light leaks C'è il flash Con Tutte le luci Sparate Che ci abbiamo Per il video Eppure la vignetta Se ci fate caso Vedete Qua intorno Si vede L'effetto a vignetta Mentre questa qua Invece È pulita Precisa Condizioni di luce Diciamo Normali Senza flash Senza flash Senza Nessun effetto Di colore Senza nessuna Compensazione Dell'esposizione Però Vi consente Ora noi abbiamo provato Soltanto questi effetti qua Però vi consente Veramente Di giocare tanto E di trovare Effetti fighi A seconda Delle varie situazioni Per fare sempre foto Una diversa dall'altra Quindi Questa era La Fuji Istax Mini 99 Fateci sapere Se vi è piaciuta Qual è la feature Che vi è piaciuta di più Se ce l'avete Se l'avete provata Quali sono i colori Che vi Vi piacciono di più Niente Io vi saluto Vi aspetto al prossimo video Iscrivetevi se vi va Tieni No Non ti aspetta Volevo fare una figata Non mi è venuta Ciao Ciao